Il Comune di Nuova ha ottenuto la proroga del piano di riqualificazione urbana del quartiere di Monte Gurtei. Si tratta di un progetto del 1998 finanziato dal Ministero delle Infrastrutture per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro. Lo rende noto Antonio Belloi, Assessore Comunale ai Lavori Pubblici, che nel mese di dicembre ha tenuto una serie di incontri con il Vice Ministro delle Infrastrutture Riccardo Nencini, ottenendo la proroga del procedimento fermo da anni. In programma quattro tipologie di intervento, ristrutturazione degli immobili comunali, siti nella parte alta del rione, realizzazione di un parco urbano nella medesima zona, interventi sulla viabilità di sottoservizio del quartiere, ma anche interventi di arredo urbano dislocati nelle aree soggette a intervento. Ci sarà una compartecipazione pubblico-privata. Nell'area di proprietà comunale, tra Viale Repubblica e Viale Costituzione, verranno realizzate delle opere da destinare alla pubblica amministrazione e una parte da emettere nel libero mercato e in edilizia convenzionata. Quanto ai tempi, gli interventi dovranno essere realizzati nel giro di due anni. La proroga del piano di riqualificazione urbana di Montegurteo è un passo importante, che risponde alle richieste di un quartiere che per anni ha vissuto di promesse disattese, sottolinea l'assessore Bellui. Come nuova amministrazione abbiamo ritenuto doveroso dare un segnale di concretezza ai nostri concittadini, mostrando inoltre grande attenzione ai procedimenti realmente strategici per la città. Il comitato di quartiere, presiduto da Antonio Maccioni, si è reso subito disponibile al dialogo ed in piena sinergia con l'amministrazione e dedicata attenzione e impegno alla vicenda. L'amministrazione comunale ha anche intrapreso un percorso di collaborazione con l'ASL. Sono allo studio alcune iniziative per il parco dell'ospedale Zonchelo, che confina con Via Ragazzi del 99, che potrebbe essere reso accessibile ai cittadini attraverso l'apertura di un varco pedonale.